Buona domenica a tutti ragazzi e ragazze io sono Angela e voi siete sul mio canale tutto dal web Pio e Amedeo sono stati gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 21 i due comici infatti avevano un importante annuncio da fare ripetuto 10.000 volte il 16 aprile partirà il nostro primo programma dicono Pio e Amedeo felicissima sera ovviamente su canale 5 e con ospite la prima puntata speciale Maria De Filippi ma non sono mancate le loro battute proprio punzecchianti preso di mira chi poteva essere secondo voi? ebbene sì Stefano De Martino Pio infatti gli dice tanti auguri a Stefano De Martino che diventa di nuovo papà finalmente un fratellino per Santiago panico in studio, silenzio ma non sono mancate anche tantissime risate poi lo avvisano e gli dicono ma non è figlio di De Martino? ah non è tuo? mentre poi non si fermano visto l'imbarazzo anche di De Martino e continuano a spingere la dose parlando del nuovo fidanzato di Belen ah non è suo? non eri tu nella fotografia Stefano? Belen se li prende tutti uguali non capisco lei li prende, li attacca le orecchie e si fidanza come l'hai presa? tutto a posto come si chiama? ah si chiama Antonio Spinacina ma state in buoni rapporti no no dico è un parrucchiere poi ironizzando ancora Pio gli dice e lo shampoo non glielo potevi fare tu De Martino? ha preferito non esporci e ha riplicato con molta eleganza è un lavoro non ridere rispondendo a Maria alle loro battute perché se io rido troppo risco di offendere qualcuno però mi fanno ridere e invece se rido poco offendo loro Pio e Amedeo poi si sono complimentati per la sua reazione elegante gli dice l'hai presa in maniera sportiva bravo è meglio che non è replicato perché sennò domani mattina qualche parrucchiere potrebbe offendersi voi che cosa ne pensate? scrivetemelo nei commenti lasciate il mio like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi così questo ma nessun altro prossimo video buona domenica da Angela da Tutto dal Web